Dopo un paio di giorni insieme, hai capito chi comanda qui? I ruoli li hai capiti? Tu sei un gran divertimento, ma credo che il capo sia lei. È stato un piacere. Vediamoci in giro. Spero vi siate divertiti. Ci vediamo in Nuova Zelanda. Mi occuperò di voi. Io posso venire? Ci devo pensare. Voi due ragazzi invece potete venire.